Per chi ha problemi ad aprire così un file che finisce come .zip o .rar ma il file è bianco quindi in questo caso come puoi vedere come per esempio questo file qua che è bianco e finisce come .zip o .rar quindi in questo caso questo è il file da estrarre e aprire con il programma .win.rar quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina per scaricare il programma .win.rar quindi ed eccolo qua vai direttamente su scarica .win.rar e scarica .win.rar ed ecco il programma quindi noi adesso andiamo così a installarlo faccio installa scelgo così i file che deve estrarre .win.rar quindi puoi estrarre qualsiasi file .zip.rar.iso.gab.x.z.attar.lezz tutti i file mettiamo pure .jar e faccio ok e faccio chiudi quindi io adesso posso aprire così questo pacchetto quindi lo posso aprire tasto destro sopra posso fare win.rar estrarre .wain.rar estrarre file il nome del pacchetto ed ecco la cartella in questo semplice tutorial ti ho spiegato come risolvere così questo problema riguardo al file bianco che finisce come .zip o .rar quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao